Ciao Rallo, vi ascolto un attimo Inizio che mi sono andati Arrivi Io adesso vedremo un attimo Mi intermito il Kevin Il mio problema sarà Che voglio mettere un tipo di macchina in inglese Adesso vediamo un attimo Allora prima cosa Abbiamo circa 7 ore Anche meno 7 ore da fare gare Ok? Quindi in 7 ore La testa deve stare solo e soltanto sulla barca Non esiste l'esigenza personale Ah io devo andare alla parte Ah io devo andare all'altra Io ho fame, io ho sedi Ok? Quindi 7 ore Testa in barca Ok?